20 anni fa l'omicidio di Mauretta Fondacci. Il fatto di sangue rimasto irrisolto più grave avvenuto nel comprensorio negli ultimi decenni. E proprio nei giorni in cui si susseguono le commemorazioni a ricordo di quella tragedia, richiamando anche il valore della campagna contro la violenza sulle donne, parte da un istituto eugubino un nuovo progetto di riflessione, sensibilizzazione e prevenzione. L'istituto è il Cassata. Il progetto si aprirà il prossimo 23 novembre proprio alla vigilia della giornata mondiale contro la violenza sulle donne. Ad illustrarlo ai nostri microfoni la docente dell'istituto Tiziana Zeppa. Il nostro progetto tende a sensibilizzare gli studenti su situazioni problematiche che li possono toccare da vicino. Quest'anno l'abbiamo intitolato violenza no grazie e in questo contenitore cercheremo di affrontare tutti gli aspetti legati alle forme di violenza fisica, verbali, nei rapporti interpersonali, e attraverso il web. E quindi parleremo di cyberbullismo ma parleremo anche di un fenomeno che secondo noi è abbastanza diffuso e può coinvolgere anche gli studenti nella fascia scolare e soprattutto è importante sensibilizzare i ragazzi e le ragazze su questo problema della violenza di genere. Violenza nei confronti delle donne ma non solo, anche nei confronti di tutti i soggetti più deboli, quindi tutto ciò che è il diverso e che viene considerato debole da quelli che si sentono più forti, non si sa per quale motivo. Faremo degli incontri, delle attività in classe, incontri con persone appartenenti alle istituzioni. Abbiamo deciso quest'anno di dare il via con una specie di evento, non è una lezione, sarà un momento in cui gli studenti trarranno un po' le conclusioni del lavoro che stanno già svolgendo in classe, approfondimenti con i docenti, con alcuni docenti che approfondiscono questi temi, ma anche ricerche sul web, sulla rete perché non va demonizzato nulla. Quello che è importante è la consapevolezza, il capire fino a dove ci si può spingere. I ragazzi appunto saranno i protagonisti di questo momento attraverso quello che è il loro linguaggio, che quindi possono essere le parole ma anche la musica, le immagini e daranno la loro percezione del fenomeno, al quale cercheremo di dare una risposta con le istituzioni. Via via collaboreranno varie istituzioni. Per questo primo incontro ospiteremo il questore di Perugia, il quale è il soggetto che appunto potrà dare delle risposte a livello istituzionale su questo tipo di problema.